Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Se c'è un sentimento che durante questi 60 giorni di coronavirus non smette di regalare un sorriso e tanta speranza nella prospettiva di un nuovo capitolo della nostra vita, beh, quello è la solidarietà. E la solidarietà è bella perché a volte ci mette poco ad esprimersi, anche con gesti semplici. E questa mattina a Sondrio l'altruismo ha dato un altro frutto, la donazione di 200 euro, una somma raccolta tra gli agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale del capoluogo. Destinatari, i volontari di Valtellina Soccorso, organizzazione impegnata nei trasporti sanitari e l'impegno della quale in questi giorni di emergenza viene quotidianamente messo a dura prova. Anche noi ci siamo sentiti in dovere di partecipare e dare una mano alla comunità perché sappiamo benissimo che in questa situazione di emergenza nazionale c'è un discorso di mancanza di fondi che le varie associazioni purtroppo soffrono. Un aiuto prezioso e che mette ancora una volta a contatto una sfera erroneamente considerata distante, quella della reclusione e del reinserimento sociale, con il fuori, l'oltre. Tutto è parte della società e le distanze, le barriere dinanzi alla partecipazione vengono così abbattute. È una bella iniziativa che è partita dalla polizia penitenziaria che dice che anche loro ci sono in questo momento. Accanto a questa ricordo l'iniziativa che è nata dalle persone detenute del carcere di Sondrio che anche loro hanno raccolto quasi la stessa cifra da destinare a persone che hanno particolarmente bisogno. Io devo dire un grazie a tantissima gente perché in questo periodo tantissima gente di Sondrio ha dimostrato un'attenzione particolare alla realtà del carcere. Presente alla cerimonia di consegna anche il direttore della casa circondariale, la dottoressa Carla Sant'Andrea. È un'azione che apre di fatto il cuore di tutti. È un periodo particolarmente strano e anche particolarmente pesante per tutti. Anche per noi all'interno degli istituti non è stato certamente facile affrontare l'emergenza. Ma col gesto di oggi abbiamo voluto esprimere la nostra grandissima riconoscenza agli operatori sanitari che l'hanno vissuta e che la vivono anche in questi giorni con un'intensità certamente più forte della nostra. Un impegno costante è quello dei volontari di Valtellina Soccorso, votati come i tanti medici, infermieri ed operatori sanitari ad un'assistenza senza sosta. Anche nei territori più martoriati dall'epidemia da coronavirus, come i comuni della Bergamasca, dove l'associazione ha scelto di operare durante i fine settimana. Ma guai a chiamarli eroi. Abbiamo ricevuto una richiesta da parte dei nostri organi regionali i quali ci hanno chiesto di dare una mano, se potevamo, considerando la nostra realtà, su un territorio molto difficile e martoriato. Lì abbiamo risposto positivamente, sacrificandoci ulteriormente per una giusta causa però noi non dimentichiamo che siamo partiti dal nostro territorio quindi volevamo non poterlo abbandonare, nonostante ci fosse più bisogno in altre province allora abbiamo mediato lavorando tutta la settimana H24 in questo periodo di emergenza quindi non solo le notti ma proprio anche durante il giorno con l'apertura straordinaria di questa associazione in emergenza. Un'emergenza fatta di isolamento e che paradossalmente ci mette in parallelo a chi nel proprio di isolamento, nella propria espiazione, vive il dramma della pandemia in maniera analoga alla nostra, ma dietro le pareti di un istituto penale assistito dalla presenza di chi, oltre a lavorare, rimane umanamente accanto ai detenuti. Abbiamo cercato di dare ai detenuti uno strumento sostitutivo che è quello del colloquio visivo per cui abbiamo cercato di attivare i colloqui a distanza con la piattaforma Skype for Business anche chiamate WhatsApp, gli abbiamo dato la possibilità di fare anche delle telefonate in più straordinarie alla famiglia in modo tale da evitare anche situazioni di tensione all'interno dell'istituto quindi diciamo che è stato un po' difficile, però adesso la situazione è abbastanza tranquilla i detenuti comunque hanno accettato questa situazione perché sono consapevoli che si tratta di un'emergenza.